Siamo giunti alla diciottesima edizione dell'Epifania e della Befana Viene dal Mare che viene direttamente dal porto turistico al Marina di Pescara. Invitiamo tutti i bambini e non a venire ad aglietare l'arrivo della Befana a bordo di un'imbarcazione che poi scenderà comunque a terra e donerà un dono per ogni bambino presente. Presenti alla manifestazione, anche per la sicurezza di tutta l'organizzazione, oltre 60 bagnini, oltre che i canni salvataggio della SIX, la Befana verrà accompagnata anche dai bellissimi gufi. Saranno presenti anche nell'evento dei bellissimi cavalli che arriveranno dal ponte del mare, arriveranno fino alla zona dell'evento. Volevamo ringraziare il Marina di Pescara, il patrocinio del comune. Saranno presenti con noi anche la Capitanere di Porto e la Guardia di Finanza.